Questo qui è l'Assemblea Generale del 2016, per il quinto anno consecutivo si ritrova dopo l'atto costitutivo della nostra associazione. Dal 2012 ad oggi è stato veramente un crescendo, sia per quanto riguarda il numero di soci, sia per quanto riguarda la conoscenza, che della nostra associazione stiamo facendo non solo in Italia, ma anche in tutta Europa, dove associazioni, l'analoga alla nostra, ne esistono praticamente in tutte le nazioni. Per cercare di rendere più vivo il sentimento che ci accomuna tutti noi appassionati, ma non solamente cultori, ma anche mugnai di questi opifici idraulici da vento, abbiamo organizzato per quest'anno il primo concorso fotografico, che ha visto la partecipazione di oltre 70 fotografi. Il frutto di queste fotografie sono state selezionate dalla giuria e premieremo per l'appunto questa mattina il fotografo che ha realizzato un'opera su cinque scatti e un altro fotografo che l'ha realizzata una su uno scatto singolo. Ecco, scopo dell'iniziativa è quello di arrivare a divulgare il patrimonio molitorio presente in Italia su un circuito molto più ampio, infatti la mostra sarà resi itinerante tra tutte le regioni che già praticamente hanno dei membri che fanno parte del consiglio di amministrazione della nostra associazione. Nell'ambito del recupo delle moline storici italiane, noi abbiamo creato questo spettacolo Ruote sull'acqua, che è un balletto ideato e sceneggiato da me proprio per Revere e questo avrà proprio l'anteprima a maggio a Revere, questo balletto in cui la danza, il teatro e quindi la recitazione e la musica si compenetrano a vicenda per formare un tutto unico. La prima parte comprende la leggenda tratto dai Monti Pallidi di Virgino Wolf, la seconda parte che è la più poderosa e anche per noi la più importante è tratta dal mulino del Po di Riccardo Bacchelli, per ricreare soprattutto quello che era l'ambiente del mulino, soprattutto i mulini dei fiumi ma anche il mulino del Po con le sue alluvioni e con la sua tremenda esistenza. È sicuramente un evento che questa associazione porta avanti tutti gli anni, questo convegno, il tutto questo legato naturalmente al nostro mulino natante che è stato ancorato per praticamente sei mesi del 2015 a Manto in occasione degli eventi collegati ad Expo e quindi per rimarcare la presenza sul territorio di questo mulino natante che è a scopo didattico ma viene fatto questo evento che noi riteniamo importante per tutta la zona ma anche per tutta l'Italia.